Are you ready for today's Easy Italian Listening Practice? I'm going to describe a word in Italian only and your job is to guess what the word is and if you need to you can turn on the subtitles so that you can follow along with me. Let's start! Iniziamo! La parola di oggi è una professione, è un lavoro. Questo lavoro consiste nello scrivere tante parole organizzate in una forma interessante che può essere più breve come un racconto o più lunga come un libro o d'un saggio. Che cos'è? What is it? As always the game continues in the comments below so make sure to leave me your comment with your guess and I'm going to reply with my feedback. See you in the comments! Ci vediamo nei commenti! Ciao! 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 Ciao!